Siamo in compagnia, sia pure in collegamento, di Fabrizio Masia. Masia, allora, a che servono e servono e quanto contano queste divaricazioni, queste polemiche? Beh, io credo che a questo punto tutte queste tensioni possano indubbiamente influenzare anche il voto amministrativo. D'altro canto, dobbiamo pensare che lo stesso Premier ha dato a queste elezioni, il 15 e 16 maggio, una valenza di carattere politico. Quindi non escludo che tutto questo possa anche riverberarsi su queste elezioni che teoricamente dovrebbero avere un carattere solo locale, ma probabilmente potrebbero in prospettiva assumere anche un significato politico. Ma secondo lei Berlusconi ha proprio deciso di partecipare una volta la settimana alle udienze anche perché è candidato a Milano? Questa è una possibilità e comunque la sua visibilità storicamente ha sempre dato dei risultati positivi e credo che anche questo possa aiutarlo in questa fase di trascinamento dei suoi candidati. Non a caso, ripeto, lui ha dato questo tipo di significato politico a queste elezioni. Ecco, si mette una mano sulla coscienza, Masia, lei sa cosa può dire e cosa non può dire. Ad esempio, mi riferisco, cari te spettatori, al fatto che non si possano appunto dare dati, numeri, sulle forze politiche. Però forse qualcosa sulla partecipazione al voto si può dire. Come si preannuncia l'astensione, l'affluenza, la voglia di dare il voto a un partito o piuttosto di dare scheda bianca? Siamo in un momento storico di grande disaffezione verso la politica e anche le rilevazioni fatte nelle ultime settimane tendono a dirci, lì a Di Massima, che c'è un'attesa per una scarsa partecipazione e quindi io mi attendo mediamente un calo di almeno 3-4 punti percentuali. Non c'è dubbio che anche questo tipo di effetto giocherà poi su quelli che saranno gli equilibri dei risultati nelle varie città. Possiamo dire, Masia, una cosa che si è verificata in passato? Cioè quando l'affluenza è scarsa un po' vengono premiate non le grandi liste ma quelle più puntute che hanno una maggiore motivazione di antagonismo ideologico? Normalmente questo è vero, ma devo dire la verità, io respiro nell'area anche alcune sorprese, e per cui io stesso sono molto curioso di vedere gli scrutini che ci attendono assieme il 16 maggio per capire se ci saranno meno queste sorprese.